signore e signori vi rilevo la formula segreta della coca cola questo è originale coca cola autocertificata questa bottiglia qui valori nutrizionali cosa qui dice aspettate un attimo se ci riesco prodotto su autorizzazione della coca cola company da sibeg srl sede stabilimento quindi se ci riuscite a leggere è la coca cola originale e io sono intossicata porca cazzuzza allora signori vi rilevo la formula segreta della coca cola allora sta ingredienti acqua zucchero acido citrico colorante e 5 150 di a giuletto buono acidificato che cosa è questo acido acido forco aromi naturali inclusa caffeina e pari come signori ecco qua non ne faccio capire se non muoio prima non ne faccio capire se non muoio prima allora signor la formula segreta è la coca cola no? è sempre stata scritta qua dietro sto filmato e sta facendo uno schifo oddio allora come voglio dire no? la formula che è segreta è la coca cola no? è sempre stata scritta dietro la confezione nella lista di ingredienti ma fa un culo sto filmato e sta facendo uno schifo oddio io già faccio più allora signori volevo che la forma segreta la coca cola è sempre stata scritta dietro la latina no? ma perché stanno ancora con certi stronzate? signori da quando la comunità europea si è messa a dire che ogni alimento di avere scritta la lista di ingredienti completa ogni cosa ha perso tutto quanto il valore la forma segreta la coca cola no? fanno tutti quanti stronzate fanno tutti quanti raggi ma questa è questa la forma segreta la coca cola acqua e zucchero e coloranti basta così che sto schifo che sto schifo che sto schifo danni saluti e buona doma grazie grazie